Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi a grande richiesta ho preparato per voi l'home tour della mia cucina. Ne ho approfittato perché in questi giorni ho fatto un makeover della cucina e quindi ho rivoluzionato un po' tutto. C'era uno schifo totale subito dopo il viaggio in Giappone, quindi ne ho approfittato per ripulire e riordinare tutta la cucina. Vediamo insieme cosa ho combinato. Grazie a tutti. 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 E questa è la mia cucina tutta ordinata e pulita in tutto il suo splendore. Spero tanto che vi sia piaciuta, se sì mettete un pollice in su per far crescere il nostro canale e iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Io vi ringrazio sempre per il video. Grazie a tutti.